Sì, davvero, veramente meraviglioso. Il sole, il vento, il calore. Eh già, già, perché la luce del sole trasporta energia attraverso il calore che un po' fa alzare anche la temperatura. Giusta osservazione, ma sai che dal punto di vista energetico se io ti tirassi una pallonata sarebbe uguale. Ecco, grazie, ma no. Comunque non me la tirare, per favore. Ma no, Marina, dall'arrossamento della tua pelle potremmo fare una misura di energia trasferita. Vabbè, non vuoi collaborare, vabbè. Beh, Marina, comunque se non vuoi la pallonata, guarda, c'è un altro modo di misurare ciò che ci arriva dal sole. Guarda, ho qua un radiometro. Allora, tu tieni il sensore sulla tua manina e qua controlliamo quant'è. 5, 8, 8, W su M quadro. Vatta al metro quadro? Ragazzi, ma vatta al metro quadro, non è un'energia. Dai, siate un po' più precisi, per favore. Su. Marco, bravo, sei stato attentissimo, attentissimo. Hai capito esattamente la base dei sistemi di unità di misura per definire le osservabili in fisica. Sì, cioè SI, Sistema Internazionale delle Unità di Misura.